Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Come nella foto con i cavalli dal galoppo che ho messo su Instagram, anche noi oggi siamo ripartiti alla grande con due video. E come secondo video di giornata ho pensato di proporvi questa bella partita del giovane Paul Murphy. Siamo nel 1849 e il giovane Paul, che ha 12 anni, è già un giocatore forte e capace di vincere ripetutamente, con giocatori come James McConnell e Eugene Rousseau ben conosciuti nei tornei. Nella partita di oggi però Paul giocherà contro suo padre Alonso Murphy, importante avvocato di New Orleans. Partiamo! Paul Murphy con il bianco apre la partita con E4, il padre Alonso Murphy risponde con E5. Cavallo in F3, cavallo in C6, arriva alfiere in C4, alfiere in C5 e qui arriva B4. Ora questo sacrificio di pedone è il famoso Gambetto Evans, che di solito il nero accetta e così fa anche il padre di Murphy. L'alfiere cattura il pedone in B4, ma qui arriva C3, quindi questa mossa che conosciamo bene arriva questa volta con tempo perché attacca l'alfiere e supporterà la spinta in D4 con tempo naturalmente. Quindi questo è lo scopo di questo Gambetto. L'alfiere torna indietro in C5, ma sarebbe stato meglio spostarlo in A5 oppure già un po' meglio che in C5 anche alfiere in E7 è comunque giocabile. E qui questa spinta D4 di nuovo ricolpisce l'alfiere. E per D4, C per D4, l'alfiere sotto attacco si sposta in B6. Arriva l'arrocco corto per Paul Murphy, quindi fermandoci un attimo al costo del pedone B. Paul Murphy ha completato lo sviluppo sul lato di Re e ha conquistato il centro con due pedoni. Ora, il nero non soltanto non ha il centro, ma ha anche il problema di come continuare a sviluppare. Perché per esempio dopo cavallo in F6 arriva subito E5, un'altra mossa con tempo, una spinta che prende ulteriore spazio senza problemi perché questo pedone è supportato benissimo. Quindi il nero dovrebbe continuare con D6, quindi un secondo controllo sulla casa E5 oppure con cavallo in E7. Invece il padre di Murphy gioca a cavallo in A5 che attacca l'alfiere. Questa è un'idea che a guardarla così sembra bruttissima, in realtà verrà giocata più di una volta, ma a me personalmente non piace particolarmente. L'alfiere sotto attacco si sposta in D3 e qui arriva la spinta al centro in D5. Questo è il vero errore di questo inizio di partita, perché è una spinta troppo aggressiva e che rischia, e non solo rischia, che vedrà vedersi aprire il centro in faccia con il re nero ancora sulla casa di partenza in E8, addirittura a due turni, a due mosse dall'arrocco. Quindi una spinta pericolosissima, Paul Murphy cattura il pedone, quindi apre questa colonna E, il nero costretto a ricatturare di donna. Ora siamo alla mossa 11 per il bianco, ci sono tantissime buone continuazioni. Paul Murphy sviluppa l'alfiere in A3, una mossa che limita ulteriormente le possibilità di movimento del re nero. Qui arriva l'alfiere in E6, l'idea del nero è quella di arroccare lungo, ma il giovane Paul non gli darà tempo. Arriva a cavallo in C3 con tempo perché attacca la donna, la donna si sposta in D7 e adesso il bianco non può perdere tempo, se no il nero arroccherà e quindi migliorerà notevolmente la sua posizione e quindi Paul Murphy continua con D5. D5, un'altra mossa forzante perché sta attaccando l'alfiere, il nero giustamente catturerà in D5. Ma vediamo un po' che succede se invece si sposta l'alfiere, per esempio l'alfiere in G4. Dopo l'alfiere in G4, non giocata dal padre di Murphy, arriva torre in E1 con scacco. Ora il re si potrà spostare, qui non si può mettere il cavallo in E7, se no arriva lo scacco di torre che vince donna e cavallo per alfiere e torre, quindi il nero può praticamente abbandonare e bisogna spostare il re in D8. Donna in C2, questa è una delle poche posizioni dove non importa se l'avversario sciupa dal rocco, perché dopo alfiere e catture in F3 non si sta neanche a ricatturare, arriva alfiere in F5 che in ogni caso vince la donna, perché la donna non può spostarsi da nessuna parte. Ritorniamo a noi, quindi dopo D5 il padre di Murphy giustamente cattura con l'alfiere in D5, si stanno aprendo però sempre più linee di attacco contro il re nero. Il cavallo cattura l'alfiere, la donna ricattura, mossa 15 adesso per il bianco. Siamo al momento critico della partita e quindi anche al nostro quizzone. Ora ci sono tre fortissime continuazioni per il bianco e quindi a voi sarà il compito di trovarle, ma naturalmente basta trovare la prima mossa, quindi mettete pure in pausa se volete e da voi la parola. Ritorniamo a noi, perché fortunatamente Paul Murphy giocherà di queste tre continuazioni quella forse meno intuitiva, ma per Stockfish anche la più forte, noi invece inizieremo con quella che secondo me è quella più semplice da trovare. Torre in E1 con scacco, mi sembra delle varie continuazioni quella più semplice da vedere, il re si deve spostare in D8 e qui arriva alfiere in F5. Ora fateci caso, la donna nera non può catturare in D1, perché dopo donna cattura in D1, la torre ricattura, il re nero non ha possibilità di muoversi, alfiere in D4, unica mossa legale, ma dopo la cattura di torre in D4 è già scacco matto. Quindi dopo alfiere in F5 bisogna fare posto al re, quindi il nero giocherà C6, ora bisogna attaccare la donna, torre in E5 attacca la donna, la donna è quasi costretta a cambiarsi in D1, la torre ricattura con scacco, il re si porta in D6. Alfiere in D6 con scacco, re di nuovo in D8, alfiere in B8, scacco di scoperta, unica mossa possibile alfiere in D4, di nuovo la cattura di torre da scacco matto. Ritorniamo al nostro momento critico, andiamo a guardare la seconda linea vincente. Donna in A4 con scacco è un'altra linea fortissima, tra le varie continuazioni C6 sembra quella più logica, quindi a coprire questo scacco, ma adesso arriva lo scacco di torre da E1, di nuovo re in D8 e qui torre in A che va in D1 con terribili attacchi di scoperta. Quindi il re si sposterà per salvare la donna, ma dove si sposta si sposta, c'è sempre uno scacco di donna, in questo caso arriverà donna in G4 con scacco, re in C7, il nuovo scacco di donna, adesso in qualsiasi modo il re nero si deve spostare dove c'è una scoperta che vince la donna, perché se va su casa chiara arriva lo scacco di alfiere protetto dalla donna e quindi la donna è persa, se il re ritorna sulla colonna D, basta spostare l'alfiere e la donna viene attaccata, inchiodata sul re dalla torre. Ritorniamo al momento critico, andiamo un po' a vedere invece cosa ha trovato Paul Morphy, perché Morphy gioca alfiere in B5, scacco e attacco alla donna, quindi la donna che è sospesa dovrà per forza catturare questo alfiere, e qui donna cattura in B5, torre in 1 con scacco, il cavallo si deve spostare in E7 a fare da scudo il re, adesso credo per motivi più che altro estetici il giovane Paul non giocherà torre cattura in E7 con scacco, che è già una mossa vincente e quindi anche la mossa più sicura, più semplice da vedere. Giocherà torre in B1 che attacca la donna. Ritorniamo indietro, andiamo intanto a vedere, una persona normale avrebbe giocato torre cattura in E7 con scacco, ora mossa unica, il re si deve spostare in F8, la continuazione forse più forte è aggiungere un nuovo pezzo che attacca la casa, già attaccata e controllata soltanto dal re, intorno al re, non solo perché apre anche la diagonale per far entrare la donna, il re si porterà, se il re si porta in G8, c'è donna in F3, è già un matto forzato, perché qui quando arriva torre in F8, torre cattura in F7, ci sono due case di matto, se la torre cattura, la donna ricatturando da già il matto, e se no, è la torre che cattura in F8 e c'è il matto in F8. Dopo cavallo in E5, una continuazione più interessante per il nero è il fiare in C5, ma qui la torre supportata dal cavallo cattura con scacco, il re in G8, sacrificio di torre, perché il re è costretto a catturare, entra in gioco la donna con scacco, re in F6, un nuovo scacco, re in E6, lo scacco da dietro, un nuovo sacrificio, ma per quale motivo? Perché adesso arriva la seconda torre, e il re è chiaramente dentro la rete di matto, re cattura, arriva torre in E1 con scacco, il re viene spinto verso l'angolo, dove vedete il pedone e l'alfiere gli fanno un muro, arriva donna in F4 con scacco, re in C3, torre in C1 con scacco, re in D3, torre in D1, re in C3, donna in C1, scacco matto. Ma vediamo un po' Murphy cosa si è inventato, con torre in B1 con scacco, se il nero vuole salvare la donna, la sposterà in A6, e in questa posizione c'è già il matto forzato in 6 mosse, un matto spettacolare. Torre cattura in E7 con scacco, re in F8, mossa unica, donna in D5 che sta minacciando lo scacco matto in 1 in F7, quindi bisognerà giocare donna in C4, torre cattura in F7 con scacco, re in G8, arriva torre in F8, uno scacco matto doppio, uno scacco matto veramente fortissimo. Oltretutto un fantastico gambetto Evans giocato da Giovane Paul, io spero che la partita per ripartire vi sia piaciuta, se vi è piaciuta non scordate di iscrivervi al canale, non scordate di venirmi a trovare anche su Instagram, dove cercherò di postare un breve filmato del Dietro De Quinte. Per adesso vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, e naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video. A presto! Grazie! 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 Grazie!